Salve a tutti, durante il lockdown ho fatto un sacco di video, ho costruito un sacco di cose perché me ne stavo in campagna e avevo il laboratorio accanto e tra le tante cose è partito questo progetto qua perché quelle che noi normalmente chiamiamo le ciabatte, ciabatte come che dir si voglia io le odio, sono veramente brutte, allora a un certo punto ho detto se proprio ciabatta deve essere perché a noi ci serviva perché avevamo il modem, fare il kbc, mia moglie che lavorava con lo smart working mio figlio che faceva la dad, io pure che dovevo fare qualche cosa, se non stavo in laboratorio dovevo montare i video quindi avevamo un mare di cavi, un router eccetera eccetera, quindi la ciabatta serviva, c'è tutto ho detto non la posso vedere, a me veramente le ho sempre odiate le ciabatte e se ciabatta deve essere ciabatta, sì, facciamo una ciabatta ho recuperato un po' di materiale d'avanzo che avevo, una presa di quelle che erano avanzate alla ristrutturazione della casa il cavo che è di un ferro da stiro addirittura il legno, questo qui è un coso di castagno avanzato alla costruzione del posto di lavoro questo è il retro di un quadro, le cornici quelle lì che si comprano con il vero, questi li comprano di guadbarico, ferro, questi posti qua e un altro pezzo di coso con questi pezzi ho fatto la ciabatta e l'ho chiamata flip, flop, plug, plug in inglese vuol dire presa video già l'ho fatto, già l'ho pubblicato, sta lì bello bello però da quando ho attivato la monetizzazione dei video parecchie video hanno cominciato a dare problemi perché? perché quando ho fatto il video di questo qui ho utilizzato l'editor di Microsoft generalmente non lo uso mai, però in quel periodo ho utilizzato l'editor di Microsoft di Windows 10 e ho usato le musiche di Windows 10, quelle che mi danno su quell'editor e soffrivo pure carine perché c'è un montaggio carinissimo peccato che però YouTube evidentemente queste musiche le ha riconosciute sotto diritti e io dovrò levare quel video, lo porterò sul secondo canale dove non c'è una monetizzazione, quel canale che sto dedicando al design e qui appresso adesso metterò il montaggio cambiando completamente le musiche andiamo a vedere il processo costruttivo della flip flop plug e qui va? 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 e qui? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.